Ed eccoci dunque a questo primo appuntamento di Orgoglio Made in Italy, un convegno, incontro B2B tra imprenditori, aziende, quanto è importante creare rete. Esattamente, io aggiungerei oltre anche istituzioni perché anche l'istituzione ha bisogno, ora ancora di più, di uscire fuori, di scendere dal proprio predistallo e avvicinarsi un po' agli operatori, a quelli che materialmente vivono il mercato, vivono le problematiche appunto del mercato. Nel caso specifico qua parliamo di aziende, quindi Made in Italy, ma che spaziano in diversi settori, quindi dal settore turistico a quello agroalimentare, insomma a quello della moda. Un'iniziativa importantissima per le imprese, un'iniziativa importantissima per i territori in cui le imprese insistono e operano, ma un'iniziativa alla quale si inserisce anche l'istituzione IRCA, il nostro istituto che è l'istituto regionale per credito agevolato, voluto dalla riforma regionale per gli enti regionali, si inserisce a pieno titolo in questo progetto di rete, in questa idea di rete e diventa anche un punto importante di riferimento per coloro i quali, per le imprese, le aziende, i professionisti che stanno lavorando su questa bellissima iniziativa e dà uno spunto maggiore a noi come istituzione per essere presenti e vicini alle aziende siciliane che oggi vivono dei particolari momenti di difficoltà, non solo economica ma anche di mercato. Noi abbiamo bisogno di organizzazione, di collaborazione, di trovare la chiave perché le nostre produzioni di qualità riconosciuta da noi e dagli altri, ma soprattutto che i nostri prodotti abbiano quel valore aggiunto necessario per il benessere aziendale. Io spero dopo aver fatto e organizzato questo evento di aver cercato di unire varie aziende, vari professionisti per cercare di sviluppare dei progetti insieme, fare collaborazione e cercare di esportare i propri prodotti ovunque, sia in Italia che all'estero ovviamente. Credo che kermesse come queste siano già ottime in partenza quando siano patrocinate da istituzioni quali l'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, così come la regione siciliana, oppure ancora l'Istituto del Vino e dell'Olio, l'Irvo, ex Vitevvito. Credo che poi soprattutto anche all'attere degli interventi che ci sono stati attraverso la partecipazione del Vice Presidente Armao, così come di importanti istituti quali l'Irca oppure lo stesso Istituto Irvo. Ricordiamoci che il vino insieme alle altre tre F, Fashion, Furniture, Ferrari, non a caso avevamo appunto oggi un'esposizione di una bellissima 360 Modena, sono un volano per quella che è l'economia italiana.